Ciao ragazzi, oggi ti faccio vedere due esercizi per l'apertura delle spalle e della parte alta della schiena. Usiamo il muro. Ti metti circa distanza di un braccio dal muro, piedi alla distanza delle spalle. Porti le mani in linea delle spalle. Ok, cammina indietro, abbassa il petto e in giù, più giù che puoi. Gambe stese, braccia completamente stese. Cerca di abbassare il petto il più possibile, porta la testa verso il muro. Spingi tantissimo. Se questo è troppo facile, alza le mani, ancora spingi il petto e porta la testa verso il muro. Puoi accorciare la distanza delle mani, se non ti fanno troppo male le spalle. Ispira piano piano, vieni su. Ispira di alto. Secondo, sempre di distanza di un braccio dal muro. Cammina con le mani in su. Braccia stese. Porta il petto al muro. Mento al muro. Se stai bene, piano piano scendi giù con il petto. Continua a spingere il petto al muro. Anche qui, puoi chiudere distanza delle mani. Mantieni la bassa schiena forte. Porta gli ischi in su. Pianti sopra le capelli. Inspira piano piano, vieni su. Espira. Se questi sono troppo per le spalle, puoi avere distanza delle mani larghe, sia il primo e il secondo. Ma cerca di spingere il petto il più possibile, almeno cerca di starci un minuto. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!